Ci troviamo a stazione San Cristoforo, capolinea sul lato ovest della linea M4 e stazione di interscambio con le ferrovie regionali. I lavori di stazione sono in una fase molto avanzata, abbiamo ormai completato pavimenti e rivestimenti a muro e stiamo procedendo con tutti gli accessori, quindi corrimano, parapetti vetrati, tutte le scale mobili, stiamo installando le ultime ascensori, le fasce segnaletiche, stiamo per approntare tutta quanta la segnaletica di stazione con bacheche e adesivi, stiamo completando anche tutta la parte impiantistica e stiamo proseguendo ormai con il completamento dei test dei vari sistemi. L'accesso principale alla stazione sarà tramite il futuro parco lineare collocato tra Piazza Tirana e via Ludovico il Moro. Un secondo accesso è tramite un tunnel di collegamento, un'altra possibilità di accesso alla stazione sarà tramite la futura passarella ciclopedonale che collegherà Piazza Tirana a via Martinelli. La passarella renderà quindi accessibile la stazione dai quartieri Lorenteggio-Giambellino e da Ronchetto-Sulnaveglio. Sulla passarella sono previsti tre corpi ascensore collocati uno su via Ludovico il Moro, uno sul futuro parco lineare e un altro in Piazza Tirana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.